e sta anche per cominciare Quagliarella al volo! Che gol di Quagliarella! 2 a 2 nel giorno del suo 26esimo compleanno tutto il San Paolo applaude magnifico! Ha fatto una cosa straordinaria imprevedibile questo giocatore veramente avrei mai pensato che potesse calciare da quella posizione ricevendo un pallone che era difficilissimo da calciare però lui ha grandissima qualità l'ha cercato e ha trovato il gol fantastico gol di Quagliarella fantastico al volo di destro Navarro sorpreso non si aspetta da lì la conclusione Quagliarella segna un gol davvero incredibile è incredibile la reazione del pubblico di Napoli che applaude un napoletano che segna un gol così da avversario non puoi aspettarti un gol del genere una conclusione come ha fatto Quagliarella tra le altre cose ha colpito Grazie a tutti! Grazie a tutti!